I fili del bucato steso sul balcone sottostante potrebbero aver attutito la caduta del bimbo di un anno e mezzo precipitato dal quarto piano di una palazzina popolare in via Verga a Civitanova Marche. È quanto trapela dalle indagini portate avanti dopo la tragedia avvenuta sabato sera nel quartiere di San Marone. Il piccolo resta ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di anestesia e rianimazione pediatrica dell'ospedale Salesi di Ancona. Il quadro clinico è stazionario e non ci sono miglioramenti, fa sapere l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. La prognosi dunque resta riservata a causa del grave trauma cranico riportato come conseguenza dell'impatto. La sera del 28 ottobre scorso il bimbo si trovava con i genitori di origini tunisine a casa di alcuni parenti. Secondo i primi racconti forniti dai presenti alla polizia, il bimbo, approfittando della porta finestra succhiusa, si sarebbe arrampicato sul muretto del terrazzo per poi cadere nel vuoto. Un volo di circa 10 metri, frenato in parte dai panni stesi sul balcone del piano di sotto. Un dramma che si è consumato nel giro di pochi istanti, tanto che gli stessi genitori e le altre persone in casa non si sarebbero accorte di nulla se non dopo aver sentito un tonfo all'esterno. Una ricostruzione confermata dalla presenza delle impronte delle manine sulla ringhiera. È stato il papà del piccolo a dare l'allarme, il primo a soccorrerlo prima dell'arrivo sul posto dei sanitari del 118 e degli agenti del commissariato di Civitanova. Sotto sciocca i familiari del bimbo che ora non si danno pace. Accanto a loro si stringe tutta la comunità. A Civitanova oggi non è un lunedì come gli altri, è il giorno della preghiera e della speranza.